we want you ampliando la rubrica chiedimi una canzone alla sezione radio pacco crisci la linea in diretta vi faccio un brano del del grande pino daniele perché un chitarrista napoletano soprattutto napoletano se non sa suonare pino daniele va a te cook si è ricesse dalle mie parti la dedico in particolare a all'amico pasquale che me l'ha chiesta ma tutti quanti noi come me e come tanti di me che hanno l'animo pazzo iso paz iso paz iso paz ah è è è è quindi il popolo che mi aspetta e scusate ma dò di fretta non mi date sempre ragione io lo so che sarò un errore nella vita voglio viverla almeno un giorno dalle ore e lo stato questa volta non mi deve condanna Io sono pazzo, io sono pazzo e oggi voglio parlare. Io sono pazzo, io sono pazzo e oggi voglio parlare. Io sono pazzo, io sono pazzo e oggi voglio parlare. Forza ragazzi, per gli scettici l'intro l'ho sbagliato ma l'ho fatto anche apposta perché il bello della diretta è anche questo. E se volete vi faccio pure. Yes. Yes.